Siamo con Sara Mella al termine della partita vinta dal Tavagnacco in Coppa Italia. Primo gol in maglia giallo-blu, quindi a lei chiediamo come ha visto la partita e se è contenta della sua prestazione. Sì, sono contenta per il gol fatto, ma soprattutto per il gioco espresso dalla nostra squadra. Ovviamente gli avversari che troveremo più avanti saranno di un tono diverso, ma questo è il percorso di crescita che ci porterà a iniziare al meglio il nostro campionato. Ormai ti stai allenando qua in Friuli da un mesetto, quindi racconta ai tifosi come ti stai trovando, come sei stata accolta dalle nuove compagne, dal mister e dalla società. Io sono friulana, quindi sono dall'altra parte, però sempre friulana sono. Certo qui l'ambiente è serio e tutti sono determinati verso un unico obiettivo e comunque un ambiente sereno e mi sono trovata subito bene. Un'ultima cosa, quali sono gli obiettivi tuoi di questa stagione? L'obiettivo sicuramente è migliorare personalmente, infatti quest'anno ho fatto il salto di qualità, partecipando comunque alla Serie A e ovviamente l'obiettivo principale con la squadra è quello della salvezza e di migliorare addirittura il posizionamento dell'anno scorso.